Ciao mamma io esco è il titolo del progetto promosso dalla cooperativa Aurora, Tartaruga, Gianluca Melani e il comune di Montemurlo per aiutare 40 persone disabili con un'età compresa fra i 18 e 75 anni che già frequentano i centri presenti sul territorio ad ottenere sempre maggiore autonomia. Un progetto volto a sviluppare l'autonomia delle persone disabili che frequentano le tre associazioni che hanno proposto il progetto e saranno realizzate uscite sul territorio e un laboratorio di cucina per la preparazione dei prodotti tipici della tradizione locale. Prima uscita a fine febbraio con un pomeriggio danzante. Noi diamo delle risposte davvero concrete a quello che è il tempo libero di ragazzi appunto di affetti con disabilità. È un progetto questo molto importante, è la prima volta che lo facciamo qua nel nostro comune di Montemurlo quindi siamo orgogliosi che la regione abbia selezionato il nostro progetto. Siamo fondamentali anche l'avvicinamento di tanti giovani che potranno invece avvicinarsi in questo modo al mondo del volontariato e al mondo del sostegno. Il progetto che coinvolge anche la parrocchia del Sacro Cuore, l'associazione di filiera corte e la misericordia ha ottenuto un finanziamento di circa 6.000 euro dalla regione toscana. Il fatto poi che ci sia questa rete di associazioni sui territori di Montemurlo che collaborano insieme la rendono sicuramente una realtà importante, vivace. L'obiettivo e la speranza è che questi progetti diventino strutturati sui territori e quindi che non si perdano dopo un anno o due anni ma che diventino parte della programmazione dei comuni e di tutto il territorio.